Amiche e amici buonasera al crepuscolo ma sono le 8 meno 20 arrivo ora dall'ufficio Pensavo di inserirvi velocemente qualche prodotto che ho acquistato per quanto riguarda la spesa alimentare perché comunque è degno di nota e poi passerei alle chicche anche se pensavo di girare poi un altro video dedicato solo agli acquisti tessili perché ho ripreso delle cosine potrebbe essere carino vederli magari indossati e confrontarci insieme magari riuscite a trovarli anche voi ho preso questo integratore alimentare costituito da pappa reale, ginseng e polline ovviamente la pappa reale è il nutrimento principale dell'ape regina e potevo io regina del Lidl lasciarlo lì no a parte scherzi è un ottimo integratore naturale per dare sostegno nei momenti di particolare stress psicofisico di particolare carenza di affaticamento soprattutto in questo periodo estivo così caldo dove perdiamo moltissimi sali minerali magnesio e potassio vanno reintegrati questi riescono a darvi un tono anche mentale lo usavo in fase di esami bei tempi vorrei ridare qualche esame sinceramente sono i vecchi rimedi d'oriente però devo dire che sono molto efficaci e li ho presi volentieri per quanto riguarda la pulizia a casa ho preso queste già testate in passato mi trovo bene, sono ottime, sono un set di molletti sono 20 paia eccole qui, questa è la coppia spaiata però sono panna e fucsia sono molto graziose perché da un'estremità hanno questo fiore e dall'altra hanno queste, vedete dentature gommose questo per evitare che rimangano segni delle mollette sui vostri indumenti soprattutto quando andate a stendere dei top come questo di intimissimi un po' più delicati e volete evitare che rimangano proprio i tatuaggi sul tessuto io ve le consiglio qualità favolosa, durata, eccellente top e tra l'altro fermano molto bene i panni hanno un'ottima presa c'era tutta la biancheria riformulata e rivista con questo cotone biologico ho preso due paia di boxer da uomo cotone biologico certificato tra l'altro vi dico sempre di guardare sul retro perché ci sono un sacco di certificazioni di controlli di qualità ottima vestibilità, materiale per il 95% cotone e il 5% elastano ho preso una quinta, c'erano vari colori questi saranno sempre della linea B ho preso questi snack di piselli mai provati, 70 grammi da agricoltura biologica per curiosità li ho presi sempre da agricoltura biologica lo sciroppo d'acero questo è veramente buono sciroppo d'acero canadese da agricoltura biologica della settimana spagnola ho ripreso questo litro e mezzo di succo di frutta a base di pesca e succo d'uva la frutta è 100% e anche l'altra volta l'abbiamo preso era buono due confezioni di involtini primavera con le verdure che sono i più buoni questi si scaldano al forno sono buoni e gustosi ragazze finalmente è uscita la linea all'aloe e guardate qua cosa vi mostro dall'archivio storico fatemi fare l'archivista che ce l'ho anche un po' la faccia ricordate queste referenze i pack sono identici questa era la famosa idro expert a me è piaciuta tanto e da quest'altra parte abbiamo questa acqua per il viso profumazione molto fresca questa acqua per il viso è composta per il 99% da ingredienti di origine naturale acqua glicerina alcol denaturato succo di aloe vera addirittura acqua di vite per quanto riguarda la lozione detergente lampante la somiglianza questa l'ho adorata anche se c'era un'altra referenza più chiara più trasparente come questa ma devo dire che anche questa lozione questo gel ha un 95% di ingredienti di origine naturale spicca sempre l'aloe il succo di aloe al quarto posto e poi c'è sempre la vitis vinifera e la profumazione è molto fresca e fruttata questo è un gel trasparente una buonissima profumazione ideale per il periodo anche la maschera in tessuto è idratante e rinfrescanti per pelli normali e secche ha l'aloe vera, gli estratti di aloe vera l'allontoina che sappiamo essere un lenitivo e l'acido ialuronico il pack è veramente accattivante chissà se riapparirà una lettura profana del linci non sembra male però vi saprò dire 50 ml per questo pack accattivante della crema giorno 97% di ingredienti di origine naturale e devo dire che questo logo vegan e questa promessa di idratazione vedete con questa texture molto setosa molto delicata una profumazione fresca, piacevolissima una bella profumazione fruttata e rinfrescante il pezzo misterioso è questo balsamo 3 in 1 98% gli ingredienti di origine naturale il logo vegan 3 in 1 perché può essere utilizzato sia come maschera quando vi dico che anche le creme giorno e notte se apportano una notevole idratazione e un notevole nutrimento possono essere utilizzate proprio come maschera oppure come semplice crema giorno o notte questo perché si presentano in modo così neutro sia come texture sia come attivi all'interno che se ne può fare un uso proprio universale la texture è molto corposa però vi devo dire che è proprio un burro è un burro è una... è un burro mi viene quasi da pensare a un burro corpo se pensate di prenderla come maschera va bene ma come crema giorno guardate qua che spessore è tanta è tanta è spessa è ricca quindi sicuramente come maschera viso da lasciare in posa 10-15 minuti e poi andare a risciacquare anche se leggevo di fare attenzione al contorno labbra e al contorno occhi quindi io questa la sconsiglierei come crema giorno e come crema notte tanto tanto come crema notte ragazze ce la possiamo anche concedere ma vedete che fa veramente fatica a essere stesa avevo grandi aspettative per questo balsamo e invece la consistenza la texture è molto ricca più una maschera più un balsamo notte ma sconsigliato per il mio punto di vista soprattutto nel periodo estivo è sconsigliatissimo un utilizzo come crema giorno rischiate veramente di caricare troppo la pelle cioè sudate già si suda con texture leggere e acquose poi con questa wow è stata poi presentata una linea a capelli che ricorda molto l'herba l'essence ci sono due referenze distinte la prima linea caratterizzata da zenzero e basilico ne è entusiasta la micchi ciao micchi ti saluto è indirizzata ai capelli stressati lo shampoo che è un bel boccione logo vegan sono 400 ml di prodotto addirittura la bottiglia è riciclata per un 30% sapete che amo le confezioni così scure che preservano al meglio gli attivi e gli ingredienti presenti non alterano la loro potenzialità ed efficacia proprio perché il caldo e il sole possono veramente deteriorarli lo shampoo ha un 94% di ingredienti naturali mentre il balsamo ne ha il 97% e c'è poi la maschera capelli sempre con un 97% di ingredienti naturali sono 250 ml di prodotto e Lidl in questo momento ci sta viziando la seconda linea è caratterizzata sempre da un balsamo e da uno shampoo 94% lo shampoo e 97% la percentuale degli ingredienti naturali presenti questa linea è caratterizzata dall'argan e dai fiori di arancio per capelli secchi quindi devo dire che tutte e due le linee fanno al caso mio a differenza dell'altra linea che aveva presente la maschera capelli qui ho un fluido nutriente al 96% di ingredienti naturali è una lozione per le punte per evitare la biforcazione un effetto vellutato e anti arricciamento ovviamente tendo a sottolineare che tutta la linea è senza siliconi quindi donne donne che siete attenti anche alla cura dei vostri capelli e all'utilizzo di prodotti privi di siliconi fiondatevi da Lidl perché sono veramente regalati devo dire che come anticamera del weekend questo giovedì è stato proprio sorprendente il signor Lidl ci ha viziate, coccolate e devo dire che questi pack accattivanti vedo sempre molta più cura nei packaging che vengono appunto studiati per presentare nuove linee fa onore e bisogna dar merito insomma a Lidl io vi ringrazio per avermi seguito in questa prima parte degli acquisti Lidl domani se riesco giurerò la parte dedicata ai vestiti un bacio grande e noi ci vediamo presto ciao ciao